Bello! C'è maggio pizza, c'è nulla e si giocava! Che asso! Buongiorno! Che bel tempo! Sta diluviando! Ciao! Ciao! Sì, sistemati, sistemati! Stiamo andando, cioè sto andando! Dopo aver sofferto per un'ora, perché lo scoprirete più tardi, a prendere in San Baddila Max Digital Makeup. Uno strappo in un piede, dall'altro... Uno strappo al piede, famoso strappo al piede. Uno strappo, come si può, a linguine, per la pole dance e nell'altra gamba, insomma, dall'altro lato. Del corpo, un tatuaggio che ho appena fatto. Quindi sono un po' dolorante da tutte le parti. Fico, lo faccio ancora anche a Nicole. È arrivata. Comunque avevo già fatto un pre-roll di tè che dovevi arrivare. Quindi se è arrivata siamo al... No, non facciamo, siamo in una pizzeria magnifica. Esatto, non fare pubblicità, perché sennò dopo dicono che... Esatto. No, anzi, la facciamo se poi ne vale la pena. Intanto non hanno il tè, il muro è freddo. Il che noi siamo già indignate. Poi ho chiesto la fanta e non ce l'hanno. Sto facendo una figura di Meuse con Max a Milano, perché già, insomma, siamo venuti in questo localino splendido, ha chiesto un tè freddo. Qua c'è stato un imbarazzo generale, generale, tra l'altro generale, perché siamo in tante. No, vabbè, diciamolo, stiamo aspettando. Aspetta che ti metto a fuoco. Ci siamo imboccate e stiamo aspettando che arrivino le invitate ufficiali. Che sono? Nicole. Che splendido smalto. Nicole, Gabriella. Nicole, Gabriella, Vanessa, Vanessa e le altre re di Roma non me le ricordo. Le altre? Le re di Roma. Fantastico, sono genio. Eh, ma stai nell'inquadratura. Che cara. Non possiamo boerindare? Sì, adesso arriveranno fra... Se arrivano facciamo una figura di me. Sì, sì. Veloce. Ah, a te a Milano? A me a Milano. A te nel mondo. A me nel mondo, esatto. E viva. Pagare totalmente alle 10 centesimi, così per i vari. Sì, sì, sì. È una borsa a portafoglio. Io devo assolutamente rompere le palle. Le infili qui. C'è visto che non ci sta niente dentro, fondamentalmente. Sì, sì, sì. Le... Ah, sono quelli nuovi. Yes. Non li ho ancora mai visti. Oh, posso vedere? Ho tirato la banca? Anch'io li ho visti. No, vabbè, carini. Adesso non prendi le palle per un saluto. No. Sì. No. Sì. Ma io... Ti faccio scombare. Eh, sì. Ma che altro? Avvisami. Io, io, io. No, no, cioè, l'hai già dato. Grazie. No, vai. Vabbè. Siete mai a scoperta con un saluto? Vabbè, io dovrò darmi i menti. Eh, perché... Perché non... Hai ripreso tutto? No, ho ripreso adesso. Tranquilla, tutti i segreti industriali non verranno divulgati. Ok. Oggi almeno. No, vabbè. Io ho rivoluzionato il mondo di YouTube. Anzi, ho rivoluzionato addirittura il mondo del make-up perché guardate, io mi trucco su una lastra di pietra, no, su una lastra di marmo, sopra un termosifone. Su un pigiama. Su un pigiama, hai dimenticato il pigiama. Anzi alla pioggia. Cioè, questa è arte. Il mio telefono non ti permette di andare in internet perché è questo. Pensi che devi finire entro tipo l'anno? Ma può dare. No, perché no oggi, ma non ho voglia di truccarmi, quindi ci metterò solo tre ore e mezza. E nel frattempo sto facendo tre cose in una. Rispondo al cellulare, panino e film. Ho vinto una scatola trasparente. Max si è presa l'Happy Meal. Ovviamente sembra giusto. Ci dobbiamo distinguere. Io, vabbè, ho preso qualcosa di esagerato. Molto bene. Poi andremo da Lailaland. Butta giù tutto, mi raccomando, sai. Fai la splendida. Non so come lo stai dicendo, come faccio il suo figlio. Sono sexy? Poi mi ranno e non gli dico, magari i fogni. Sexy. E quasi a me sa, ma gli dico che fanno il suo figlio. Sì. Non vogliamo. Così? Vabbè, qua. Scusami. Non è un'esperanza. Meraviglia. Foto con un miliardo e mezzo di persone. Ok. Grazie. Lei. Ah, assieme. Va bene. Sto praticamente rubando le facce le ragazze. Non è una foto con le ragazze. Perché voglio mettere il nome. Posso mettere il tuo nome sotto? Ok. Sai come si chiama? Marta. Marta. Lo so per dire. Guarda. Lui si chiama assolutamente. Lui si chiama Federico. Lo sapevo. Lo so per dire. Federico incontro luce, accidenti. Marta. Guardali che carini. Sì. Va bene, grazie. E loro ci saranno all'1 giugno. Ci saranno, eh? Sì. Saranno più carini. Sì, anche perché sai il nome è tutto per cui. Cioè, sono cari. Ando in Vittorio Emanuele perché c'è Pamela. E quindi, niente, devo un po' abbracciarla. Ma giusto un po', tipo la stritolerò. Sì, mi riprenderò e faremo un film romantico. Comunque, Nicole l'abbiamo vista, però in compessa ho conosciuto un sacco di bellissime ragazze, carinissime. Ora, io lo so che fa molto, c'è posta per te, ripetiamolo. Ma vorrei che questo momento sia, venga ripreso perché devo tipo stritolare Pamela che non la vedo da otto mesi. Siamo qui alla Disney. Provo a riprendere, tanto poi, infatti, mi uccideranno. Questo mondo è bellissimo. Vi puoi scegliere la musichetta e il film da guardare. È bellissimo questo posto. Io sono tipo incantata, come se fossi una bambina di 4 anni. A me piacciono gli alberi. Qua rimane incantato, cioè, oltre a... Questi sono le principesse che ballano. Comunque, io prendo questa. Però è bello, conosci. Fai vedere, fai vedere, fai vedere. È stato bello oggi, mi siete divertite. Bastarde che dovevo esserci anch'io. Siamo facendo un'altra cosa. Cioè, stavo facendo dei voli. Non si stava. Mi chiedeva, mi chiedeva, mi chiedeva, mi chiedeva, mi chiedeva. E quella è ligno. No, poverina è stata fatta male. Si è fatta male? È caduta, è messo là. Il nito, per tutto questo. Da un video? Ah, ah, ah. Ah. Guardate chi c'è. Ah, ah, ah. Ah, ah. Finalmente ci siamo rincontrate Mi sembra tanto Raffaella Carrà E dopo otto mesi è qui Prima ho detto che il pezzo dove ci abbracciamo lo metto tipo a rallenti con la canzone C'è posta per te Bello, figo, stiamo aspettando Giuliana che se si muove magari E stasera per accontentare gli uomini andremo a vedere la partita Anche se vabbè le donne guarderanno la partita in modo insomma da lontano Ciao Giuliana ci sei pure tu stasera che palle Senza trucco come sempre la Giuliana Ma fai ancora lo zap sulle zine della... Esatto, voglio dire Ma che zine che c'è nel 10 del mega L'anticipo di Subotice perché stava sbucando Müller Più pericoloso di lui Adesso avevo grani pericoloso No, per la pena, attenzione a Lewandowski Lewandowski deve procedere, liberarsi dell'appersaglio Che viva Bello C'è mangio chi c'è da Müller si blocavola Che accolta Tiene vivo il Madone con un bianco di topo Riberini Attenzione a Müller Una volta tipo Arrivata con la pioggia E se ne va Se la porta via sicuramente Lì adesso porterai la pioggia Esatto, adesso vado a Verona con il sole E arriverà al diluvio Possiamo dire perchè vai a Verona? No, perchè hai solo rotto le palle per due Cos'è? Cosa ho fatto? Sempre io Sempre tu E quella cenere lì di chi è? Assolutamente non è mia Allora vabbè è mia Arrivo la Fumo io la Non è assolutamente mia Vabbè Comunque per cosa? Ecco, ora ci mancano un parcheggio Perché c'è un elemento di giochi Vari eventuali Sicuramente Sto andando via Quella della pizza caffè Oddio Ti è arrivato? Ma non gli hai detto niente lei? Le cose che parlando? Vabbè ciao Gli avevo scritto un messaggio Gli avevo scritto La signora Sandra Solde L'aspetterà davanti In qualche posto Avesse lasciato un messaggio Dicendo di te Si ma hai capito Pizza, caffè, fragole, bini e manate Chi è? Cos'è? E' male cos'è? Sto scherzando Grazie, grazie il vetro Quanto è la personalità Quanto è la personalità Ma sta giocando non è Ti pare che è giovane? Ma se la morde Nooo Vabbè raga Ha finito la giornata qua Si ride, si scherza Con i video dei canti Esatto Stiamo ridendo da quando ci siamo visti Si esatto Tra video di napoletani, video di cani Gli sposi che vengono a Milano con la crociera Una crociera a Milano Grazie Grazie